Musica Strage di migranti a Cutro, il Consiglio regionale della Toscana ricorda le vittime con un minuto di silenzio. Protesta dei lavoratori della regione, no dicono al pagamento degli staff dei politici con il salario accessorio dei dipendenti. Festa della donna, otto toscane premiate e un riconoscimento speciale alle attiviste iraniane. Conferenza delle regioni, il Consiglio dice sì alla formalizzazione. Sanità più integrazione tra ricerca e cura, il Meyer diventa IRCS, ITER avviato anche per la Fondazione Monasterio. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del naufragio disteccato di Cutro in Calabria. Su richiesta del portavoce dell'opposizione, Marzio Landi, della Lega, il Consiglio regionale della Toscana si è raccolto in segno di lutto per una tragedia costata la vita ad almeno 72 persone, tra cui 16 bambini. Sono a chiedere un minuto di silenzio per le vittime dell'immane tragedia che si è consumata sulle coste crotonesi, nei pressi dello steccato di Cutro dove hanno perso la vita 62 persone, di cui 28 bambini e ancora ci sono dispersi. Grazie Presidente. Bene, allora facciamo un minuto di silenzio. Grazie a tutti. 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 di diritto italiano quindi paghiamo le tasse in Italia. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quaterosa o per favoritismi ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare. Il nostro gruppo è composto soprattutto appunto da ragazze, da archeologhe e sia studentesse che appunto archeologhe già laureate e specializzate. Noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe perché la nostra professione spesso diciamo non viene riconosciuta nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo e quindi oggi abbiamo l'occasione essendo qui di essere diciamo portavoci di tutta la nostra categoria. E l'edizione di quest'anno ha visto l'assegnazione di un riconoscimento speciale a una delegazione dell'associazione Donna Vita Libertà che sostiene la lotta per la libertà delle donne iraniane. È importante parlarne in continuazione perché i crimini del regime islamico sono infinite e le violenze sono inaudite. Ogni giorno ci chiediamo cosa succede, succederà di più. Abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale, abbiamo bisogno di sensibilizzare ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo perché avvelenamenti delle bambine soprattutto ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo. Quindi penso che anche comunità internazionale e tutti i stati democratici hanno il dovere di chiedere cosa sta succedendo. Come la regione toscana in questi mesi è stata accanto a noi, ha dimostrato che sta accanto alle donne iraniane e noi continuiamo a lavorare con loro perché credo che per primo passo per poter aiutare sia anche conoscere quello che sta succedendo. È il nostro dovere come donne iraniane, come popolo iraniano e quello di far sapere al mondo tutte le atrocità che stanno succedendo nel nostro paese. La Toscana è tra le prime regioni italiane ad avviare l'iter di istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome. Un istituto che esiste e opera dal 1981 ma la cui esistenza non era mai stata formalizzata con una norma ad hoc. Il 6 dicembre scorso c'è stato un incontro a livello nazionale nel quale i presidenti delle regioni hanno siglato un'intesa che è finalizzata a istituzionalizzare questa conferenza. Un'intesa che ha disciplinato le finalità della conferenza che sono poi quelle di garantire e di promuovere un'azione comune da parte dei presidenti delle regioni rispetto alle politiche nazionali e anche di concorrere in maniera unitaria alla formazione delle leggi nazionali ma anche degli atti normativi dell'Unione Europea. Per questo motivo ogni regione si è impegnata con legge regionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione ma anche dell'articolo 68 dello Statuto della Regione Toscana si è impegnata con legge regionale a recepire questa intesa. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'intesa per l'istituzionalizzazione della conferenza dei presidenti delle regioni. Siamo in attesa che anche le altre regioni italiane adottino la propria legge di approvazione. A quel punto l'intesa sarà ratificata e verrà in maniera definitiva istituzionalizzato un organismo che opera già da molti anni ma che è indispensabile per una proficua gestione dei rapporti tra lo Stato e le regioni italiane. L'Aula ha approvato la legge all'unanimità grazie al voto favorevole dell'opposizione. Le regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia, sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interlocuire tra loro giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori e quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni quindi sia dalle regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del governo nazionale era questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai. Via libera alla proposta di legge 151 per la riforma degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli IRCS. Il provvedimento modifica la legge 40 2005 e introduce la possibilità per alcuni istituti di integrare ancora di più l'attività di ricerca e quella di cura. Primo in Toscana ad aggiudicarsi il riconoscimento è il Mayer di Firenze che diventa azienda ospedaliera universitaria Mayer IRCS. Ma la richiesta è stata già presentata anche dalla Fondazione Monasterio che al termine dell'ITER potrebbe ottenere la qualifica di IRCS anche per l'ospedale del cuore di massa. Con questa legge andiamo a modificare la legge 40 del 2005 introducendo nell'ordinamento toscano la figura degli IRCS, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Cioè la possibilità di svolgere attività di ricerca integrata in maniera forte con l'attività di cura. Lo facciamo dopo che il Mayer ha avviato un percorso importante che ha avuto un riconoscimento a agosto scorso e che gli permetterà quindi di trasformarsi in maniera definitiva in azienda ospedaliera universitaria Mayer IRCS. Questo sarà il nome del Mayer, l'abbiamo deliberato ora nella giunta. Nella sostanza andiamo a ridisciplinare tutto il funzionamento di questa tipologia di istituti come si fa a nominare il direttore generale, ci sono figure nuove, il direttore scientifico, il collegio di garanzia, insomma tutta una serie di figure che permetteranno di svolgere questa attività con più forza scientifica, con un coinvolgimento del Ministero della Salute perché ovviamente con questi passaggi chi ottiene la trasformazione in IRCS diventa parte integrante della rete della ricerca nazionale e internazionale. Quindi intanto per il Mayer un grande passaggio avanti, ma pensiamo che la Toscana non si debba limitare solo al riconoscimento del Mayer, è in corso il riconoscimento anche per la fondazione Monasterio di Pisa, tant'è che abbiamo introdotto un articolo specifico per la fondazione di natura pubblica che permetterà qualora anche per la Monasterio questo percorso si concludesse positivamente di poter senza modificare la legge andare a riconoscere le figure e adeguare lo statuto il funzionamento della macchina in modo tale che ci sia il riconoscimento di IRCS. Insomma un passaggio importante per la ricerca e un passaggio importante per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. Una proposta di legge, quella per la riforma degli IRCS, approvata anche con i voti dell'opposizione. Questa legge praticamente introduce nel sistema toscano per quanto riguarda gli istituti di ricerca un modello organizzativo assolutamente differente che segna a nostro giudizio finalmente una netta discontinuità con il passato, ovvero superiamo l'epoca almeno in questi istituti dell'uomo solo al comando, del Presidente della Regione che in maniera discrezionale, in maniera quasi arbitraria sceglie i direttori generali delle aziende, i quali delle aziende sanitarie, i quali poi a cascata scelgono i propri collaboratori. Qui viene introdotto un principio per il quale invece il Presidente della Giunta regionale faccia determinate scelte sentendo anche il Ministero della Salute, viene introdotto un collegio di indirizzo che noi riteniamo essere una cosa normale, opportuna, necessaria in aziende che governano e gestiscono miliardi di euro e si occupano di milioni di persone. Introduce la figura del direttore scientifico che noi riterremo essere opportuna anche nelle aziende ospedaliere universitarie. Noi riteniamo che si debba appunto superare il modello organizzativo dell'attuale ASL, riteniamo che questo modello organizzativo che viene introdotto in Toscana per recepire la normativa nazionale, non per moto proprio della Regione Toscana, sarebbe molto utile e opportuno che venisse mutuato, che venisse utilizzato anche nelle aziende sanitarie toscane. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it iscriviti al nostro canale